Ciao ragazzi, benvenuti qua sulle Fentech e con un nuovo video oggi facciamo una recensione un po' speciale infatti ho tra le mie mani un prodotto vintage di Apple ovvero l'iPod Hi-Fi secondo voi ha senso averlo e comprarlo nel 2022? rimanete con me dopo la sigla bene ragazzi prima di iniziare il video di oggi vi invito a mettere un mi piace e a iscrivervi al canale così da sostenere il canale di YouTube e soprattutto mi aiutate per portarvi quante più chicche possibili all'interno appunto di questo canale partiamo subito dalla storia di questo prodotto che è una storia un po' travagliata infatti fu presentato nel febbraio del 2006 e solo dopo un anno venne ritirato dal commercio appunto da Apple appunto nel 2007 questo perché non fece così tanto successo fu presentato direttamente da Steve Jobs durante un keynote e diciamo che al marketing del tempo doveva essere una sorta di rimpiazzo dei sistemi Hi-Fi stereo per audiofili quindi di alta qualità l'unica cosa era che il prezzo era molto alto perché si parla di 350-400 dollari e quindi comunque non era la porata di tutti e poi per farlo funzionare la maggior parte o comunque la compatibilità piena di questo prodotto doveva comprare un iPod e quindi poteva essere una spesa abbastanza onerosa parlando di qualità costruttiva ovviamente per l'epoca quindi parliamo di più di 15 anni fa è un oggetto di design che ancora adesso ha un suo perché e poi la qualità costruttiva come stavo dicendo è veramente a livelli massimi infatti abbiamo due maniglioni che ci permette di portarlo e spostarlo ovunque dove noi vogliamo non è leggero perché pesa 6,6 kg quindi veramente non è una cosa molto molto portatile ma c'è un ma perché in realtà noi cosa possiamo fare adesso è staccata adesso la tela possiamo utilizzarlo direttamente o tramite cavo in dotazione appunto per avere a pieno tutte le potenzialità date appunto dalla potenza di questa cassa stereo e collegarci anche un ingresso di audio in quindi un aux in quindi se avete una sorgente audio potete caricarla direttamente all'interno e quindi potete utilizzarla per ascoltare la musica semplicemente o anche vedere un film per esempio poi abbiamo questa porta molto simpatica che adesso andiamo a vedere nel dettaglio perché permetteva come i stereo degli anni 90 la possibilità di portarlo in giro infatti inserendo quattro torci di potevamo inserirle e ascoltare fino a 6-7 ore di musica l'unica cosa è che non si aveva il pieno della potenza come ad esempio se attacchiamo il cavo perché comunque è una scelta che a mio modo aveva un senso all'epoca appunto per non andare a spingere più di tanto la potenza del prodotto e andare poi a inficiare sull'autonomia quindi diciamo che tutto sommato 6-7 ore ancora adesso valgono tranquillamente e sono nello standard diciamo dei speaker portatili l'unica cosa che però appunto per utilizzare abbiamo bisogno di un iPod io qua tra le mie mani ho un iPod quinta generazione video molto molto bello anzi addirittura lo sto tenendo in maniera molto molto particolare perché sto cercando di non farlo graffiare più di tanto infatti il back cover è originale ed è ancora completamente specchiato senza graffi si andava ad alloggiare nell'alloggio appunto del 30 pin ho un sacco di musica veramente strana e vecchia diciamo che da un sacco di tempo che non vado ad aggiornarlo e successivamente si poteva comandare o tramite l'iPod oppure potevamo semplicemente utilizzare l'Apple Remote non è questo quello che era in dotazione era quello bianco con la barra nera dove c'era la porta di infrarossi ma funziona anche quello di seconda generazione quello che si utilizzava per l'Apple TV quindi potete controllare il volume semplicemente abbassare andare avanti nella canzone schiacciare play l'unica cosa è che il mio iPod Hi-Fi non ha più il led nel senso che ce l'ha in realtà ma non funziona più infatti ogni volta che si andava ad utilizzare l'Apple Remote si andava ad accendere un led verde che però io non ho mai testato perché non l'ho mai visto dal vivo e poi soprattutto non funziona sul mio iPod Hi-Fi è un prodotto ripeto vintage ma che funziona ancora totalmente bene anche perché abbiamo poi tasti che funzionano bene essendo soft touch quindi non sono andati a rovinarsi nel tempo e funzionano ancora molto molto bene però c'è un però l'unica cosa che uno dice ma io ho un iPod non ce l'ho più anche se lo voglio prendere con cosa lo utilizzo? allora cosa ho fatto? Ho comprato questo adattatore su internet originale che in realtà l'ho preso nuovo ma da mercatini usati perché non esiste più infatti se volete cercarlo sul sito Apple non lo trovate ovvero un 30 pin che trasforma in un connettore lightning unica cosa è che andandolo a collegare ovviamente si integra bene con il design e tutto quello che volete però il lightning funziona non particolarmente bene per gli ultimi modelli di iPhone infatti non so perché ma certe volte viene supportato certe volte no non è che compaia proprio il banner dell'incompatibilità del prodotto ma semplicemente non funziona la musica certe volte parte, certe volte non insomma fa un po' come cavolo vuole lui quindi in realtà è una cosa che ho comprato l'ho pagata veramente una fesseria 5-10 euro che però non sto utilizzando perché appunto non funziona ah non vi ho detto la tela questa qua si va a installare potete installarla o non installarla potete metterla e appunto è calamitata quando andate ad inserirla e questa appunto è quella originale come potete vedere sono passati 15 anni sembra nuova quindi vuol dire che la persona che aveva questo o che l'ha utilizzato appunto non l'ha rovinato più di tanto anzi ha tenuto abbastanza bene l'unica cosa è che appunto come possiamo utilizzarlo nel 2022 con le tecnologie che abbiamo adesso semplicemente potete o collegare tramite l'Auxin un ecodotto o qualsiasi dispositivo appunto domotico e quindi andate a utilizzare i microfoni e dell'ecodotto in questo caso appunto con la potenza dello speaker di Apple oppure vi comprate questo adattatore che ho trovato su Amazon a circa 25 euro non è diciamo super economico ce ne sono anche altri ma sono delle cinesate non che questo non lo sia probabilmente lo è però è fatto bene perché è in alluminio la parte sopra in plastica ricorda molto la prima generazione di iPhone come colori come tipologia quindi mi è piaciuto molto questa trovata e soprattutto in realtà come funziona abbiamo un connettore da 30 pin sul lato invece superiore abbiamo una leva che ci permette appunto di attivare o disattivare la batteria integrata perché noi possiamo utilizzarla o col 30 pin tranquillamente inserendolo all'inizio farà un po' di gracchietti vari un po' di fastidio però poi in realtà non si sente più la leva andrà o a ricaricare direttamente tramite il 30 pin appunto la batteria oppure si andrà a spegnere quando non la utilizziamo perché andrà a utilizzare semplicemente l'alimentazione del 30 pin quindi quando utilizzate un dispositivo come questo o il Bose SoundDoc molto famoso in questa tipologia non avete bisogno di utilizzare la batteria la batteria servirà nel momento in cui voi lo staccate e andate a utilizzare il jack per le cuffie da 3,5 perché potete trasmettere praticamente qualsiasi tipologia di musica in entrata quindi collegate una sorgente che poi andrà a trasmettersi con bluetooth 5.0 con protocollo aptX quindi il massimo del bluetooth al momento c'è il 5.2 però diciamo che a livello di qualità al momento è il massimo possibile si potrà utilizzare anche l'audio lossless quindi se avete un iPhone con Apple Music con l'abbonamento e volete utilizzare l'audio lossless questo lo supporta pienamente quindi andrete ad ascoltare la musica in qualità perfetta insomma quella la più alta qualità possibile adesso su Apple Music mi pare fosse high lossless quindi potete utilizzare anche quella e soprattutto 5.0 avete un vantaggio per quanto riguarda la distanza del vostro dispositivo con appunto questo adattatore potete avere anche 10-15 metri di distanza tranquillamente senza perdere il segnale il prodotto appunto si chiama Invery Docklink Bluetooth Adapter for iPod Music Talking Station ovviamente è una cosa un po' lunga però Docklink è il nome che troverete quando andate a fare un pairing con il vostro telefono all'interno trovate poi un manualetto simpatico in cinese o in inglese che vi spiega esattamente e addirittura proprio dal manualetto vi dice che potete utilizzarlo con un Echo Dot potete utilizzarlo con una SoundDoc o in questo caso un iPod Hi-Fi potete utilizzarlo con le vostre cuffie attraverso il cavo AUX quindi insomma ci sono molte alternative che potete utilizzarlo addirittura vi fa una spiegazione su come andarlo ad impostare e riconoscerlo attraverso l'app appunto di Amazon non vi dico il nome perché sennò immagino che partano tutti gli Echo che avete a casa comunque è un prodotto che funziona molto bene andiamo subito a testarlo io ho qua tra le mani un Realme che avevo già impostato andiamo a vedere se è già stato riconosciuto Docklink 5.0 ho già fatto la prima connessione che è molto semplice in realtà adesso si è connesso e andiamo in Spotify e facciamo partire una canzone ovviamente potete controllare l'audio da Realme oppure da qua come preferite la cosa bella è che potete tenerlo ho anche premuto il pulsante del soft touch e quindi andrà ad alzare il volume tranquillamente senza stare a fare questo movimento qua allora io non so se riuscite in realtà a sentire questo audio in che qualità io spero che col microfono si riesca a sentire bene ma vi posso assicurare che connettendolo direttamente al dock e poi utilizzando il bluetooth in realtà la qualità anzi questa è anche migliore rispetto a questa qua almeno dalle mie prove ho potuto appurare che la qualità è veramente perfetta quindi ragazzi la domanda era all'inizio può questo prodotto essere compatibile con la tecnologia del 2022? la risposta è sì quindi potete comprare questo adattatore o se non volete spendere altri ulteriori soldi potete attaccarci direttamente un ecodot tramite la porta auxin e quindi andate a utilizzare un ecodot che vi costa veramente una ventina di euro quando in sconto più questo prodotto se ce l'avete in casa o se volete comprarlo preparate il portafogli perché al momento questo prodotto è molto richiesto sul mercato e non si trova a meno di 2-300 euro anzi se vi va bene riuscite a trovarlo a 2-300 euro perché le valutazioni su prodotti del genere con la qualità perfetta arrivano anche a 6-700 euro tranquillamente sono prodotti che anche dopo 15 anni suonano bene ovviamente non è un prodotto per alta fedeltà come l'ha stato all'inizio presentato nel keynote perché non è proprio per audiofili ma è una via di mezzo che va da una persona che un utente medio che piace ascoltare la musica in qualità migliore rispetto al solito e un audiofilo diciamo alle prime armi quindi diciamo che è la via di mezzo tra un dispositivo non professionale e uno professionale diciamo un semi professionale passatemi il termine appunto è un prodotto di alta qualità non altissima qualità però suona veramente bene soprattutto perché i bassi questo qua centrale da 130 mm funziona veramente bene sono profondi ma sono giusti non sono invasivi e poi abbiamo i speaker di twitter da 80 mm che anche essi hanno i medi e alti che sono veramente ben impostati bene ragazzi anche il video di oggi finisce qui spero vi sia piaciuto e voglio cercare di portarvi quante più chicche possibili all'interno del canale appunto perché sono prodotti veramente difficili da vedere molti se lo sono anche dimenticato ma secondo me è ancora un prodotto molto molto valido quindi se siete interessati ad altre informazioni su dove andarlo a cercare come comprarlo eccetera vi posso dare qualche dritta scrivetemi un commento qua sotto mettete un mi piace al video se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale ovviamente e alle pagine di facebook e instagram per vedere tutti gli aggiornamenti reels, storie e quant'altro dei prodotti che poi vedrete unboxati e recensiti sul canale e noi ci rivediamo sempre qua sulle fentech con un nuovo video ciao ragazzi alla prossima